Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Christian e oggi parliamo delle due sconfitte della Juventus, una col Verona e una col Sassuolo. Allora, partiamo dal posto che col Sassuolo abbiamo avuto un po' di sfiga che abbiamo perso al 95esimo, ci può stare. Col Verona però non puoi perdere, soprattutto non puoi prendere doppietta da Simeone e non puoi non scendere in campo, perché veramente la partita col Verona è stata, penso, lo schifo, l'unico che ci ho provato è stato di bala. Per il resto ovviamente nulli, nulli, nulli. Allora, io vi dico la verità, io vi dico la verità. Io il giorno prima di Verona Juve, mi è venuto un mal di panza alle tre della mattina, un mal di panza incredibile, mi è venuta la diarrea e io non sapevo che la Juventus avesse perso col Verona, non lo sapevo, ma è come se, non lo so, la mia pancia dicesse, guarda, oggi vado in merda e niente, è fatta nella ragione e alla fine ci ha preso, perché effettivamente è andato in merda. Io, che dire, ritiro giusto, ritiro praticamente giusto. Ragazzi, siamo in crisi, sicuramente in crisi. Spero di riprenderci contro lo Zenith. Siamo in casa, forse, non lo so. Più che altro è una squadra, ragazzi, che fa schifo. La punta non la mette dentro manco con le mani in morata. In difesa, quello che è, il centrocampo non ne parliamo. Poi alla fine è Allegri. È anche un bravo allenatore, sì, quello non ci piove, non ci grande, non ci nemica. Ma lui è abituato a giocare con i campioni, con la gente che ha vinto tutto, che ha vinto già tutto, e non con i ragazzini che non hanno vinto niente. Capito? Quindi, rifondare una squadra da zero, ripartendo da Allegri, secondo me, è sbagliato. Ma, però, secondo me, è la scelta migliore che potevi fare, da un certo punto di vista. Che dire? Ehm, veramente, ragazzi, ho registrato video prima perché veramente questa sconfitta col Verona non mi va giù, non mi è andata giù per niente questa sconfitta. Ancora ce l'ho, ce l'ho qua. Ho vedo doppietta da Simeone che non ho messo neanche titolare al Fanta. Forca puttana, neanche ce l'avevo al Fanta Calcio. Anzi, ce l'avevo al Fanta Calcio e non l'ho messo. Io, buono. Che dire? Boh. Ormai l'Inter, anzi, non il Milan e il Napoli si contendono lo scudetto. La Juve è praticamente già fuori a novembre. Propriamente tutto è possibile, per carità, però sinceramente dopo questi risultati poi i dubbi mi vengono. Niente. Niente. Insomma, la squadra d'aveva undicestimo posto, come ha detto Allegri. Decimo undicestimo posto. E c'ha ragione. C'ha ragione, ragazzi. C'ha ragione. Allora, sentivo in giro di parlare dei soldi di Allegri, alcune pagine, ma alla fine esonerare Allegri, per quanto io, a me non piace il suo gioco, per carità, non mi piace, però esonerare Allegri non ti risolve niente. Non puoi prendere un altro allenatore, magari con una mentalità diversa, con un gioco diverso, con il giocatore che hai. perché hai visto. Con Sarri, sì, hai vento uno scudetto. Però avevi metodi. Avevi Iguain. Avevi... Chi avevi? Avevi metodi. Iguain. Avevi ancora Chedira, che ancora si leggeva in piedi. Avevi Mandzukic. Avevi Emre Can. Comperlo proprio ne parliamo. Sono arrivati proprio lì, lì, per la Champions. Però almeno qualcosa abbiamo vinto. Con Allegri fino adesso non abbiamo vinto niente, tranne la Coppa contro il Monzo. E boh, che cacchio dire ragazzi. Spero che nel piano allenatore della Juve mi sembra troppo presto. Allora, prima gli farei fare un po' di gavetta da altre squadre. Prima di prenderlo la Juventus. Magari lo aggreghi in under 23. E non in prima squadra come hai fatto a compirlo. Perché se hai visto, non hai visto i risultati. Compirlo. Te lo sei bruciato. Quasi. Quindi prima poi gli fa un po' di esperienza. Poi magari quando vedi che è pronto, lo chiami. Ok? Oppure casomai se lo vuoi proprio chiamare. Chiamano in dirigenza a sto punto. Cioè, ormai la nostra dirigenza fa veramente pisciare. Normalmente neved. Non penso che non ci capisca niente. Lì in dirigenza. Spero che ci tocca il c***o quel che... Chiellini quando si ritirerà. Farei dirigente. Almeno così rilasciano le dichiarazioni. Poi non si sa. L'allenatore non lo vorrà fare. Vorrà fare il dirigente. Sicuramente lo metteranno al posto di Redbed. E' sinceramente una cosa che... Spero. E pre... Spero. 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 Spero che ci porti ovviamente giocatori abbastanza buoni. Il grandissimo Giorgione. E boh. Sinceramente altro da dire... Che devi dire. Che devi dire. Che devi dire. Niente. Altro da dire non c'è ragazzi. Che vogliamo commentare. Niente. 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 Vlaovic che contro... Contro Gary. Boh. Fa tripletta. Ragazzi. I commenti sono pochi da dire. Niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Questo video vi sia piaciuto. Questo momento mi piace. Iscrivetevi. E ci vediamo. Pfff. Scusate. E noi ci vediamo. Al prossimo video. Bella. Ciao. Ciao.